Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Tra voci di corridoio e congetture, la realtà dietro l'allontanamento temporaneo di Kate Merlton, duchessa di Cambridge, viene finalmente alla luce. Mettendo fine a speculazioni e ipotesi a volte esagerate. Contrariamente alle dicerie più inquietanti, la principessa ha subito a gennaio un delicato intervento chirurgico all'addome, con accenni a un possibile procedimento di ileostomia. Attualmente in fase di recupero, Kate si manterrà distante dagli impegni ufficiali per un periodo che potrebbe estendersi oltre le celebrazioni pasquali, richiedendo più tempo del previsto per una completa guarigione. La situazione di Kate è stata dettagliata dall'eminente storico e biografo della monarchia, Tom Bauer, in una recente intervista a Talk TV. Le sue dichiarazioni, basate su un'accurata conoscenza della famiglia reale, sottolineano la gravità dell'intervento senza tuttavia indicarne la natura specifica, rassicurando però sulla non pericolosità per la vita di Kate e sull'attesa di una completa ripresa. Questo allunga i tempi di convalescenza ben oltre le stime iniziali. Roya Nicca, esperta reale per il Sunday Times, ha evidenziato come le voci maligne abbiano turbato William e Kate. Nonostante la coppia non sia solita prestare eccessiva attenzione ai social media al pari di Harry. È previsto che la duchessa si esprima sulla sua salute quando sentirà il momento opportuno, insieme a William. Un barlume di normalità si è intravisto in una recente uscita di Kate e William al Windsor Phone Shop, suggerendo che la duchessa stia avanzando nel suo percorso di guarigione e possa concedersi momenti di quotidianità insieme al consorte, lontano dagli occhi pubblici. La vicenda di Kate Merotin rivela così una realtà ben distante dalle ipotesi più fosche, un intervento chirurgico serio che impone un prolungato periodo di riposo. Mentre il supporto e le speranze della nazione si concentrano sul suo recupero, è chiaro che il benessere della duchessa rimane la priorità assoluta per lei e per la famiglia reale. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.